Io esplorerò la prima zona. Io esplorerò la seconda zona. Questa zona è libera. Procedo con l'esplorazione. Ho trovato la fonte di calore. Mi avvicino alla fonte in maniera coordinata con gli altri robot. Mi approccio alla fonte in accordo con lo sciame. Ho fatto la mia parte. Rimango in connessione con il resto dello sciame. Ho fatto la mia parte. Rimango in connessione con il resto dello sciame. Missione completata. Lo sciame torna alla base. Missione completata. Lo sciame torna alla base. Noi. Mi vendo in questo video. Questa. clique su 거기 nuovi successori. Questa, la.